Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi ci occupiamo del Fragmentum numero 3 di Petrarca, era il giorno Cal Solis Coloraros. Siamo nella chiesa di Santa Chiara ad Avignone ed è il 6 aprile 1327, venerdì santo. In realtà noi sappiamo che non era davvero un venerdì santo, dunque la scelta è puramente simbolica ma serve proprio per creare tutta una serie di analogie, di corrispondenze tra il dolore di Cristo e del popolo cristiano che soffre in quel tempus lugendi, cioè nel tempo del pianto per la morte e passione del Cristo, quindi del figlio di Dio, e il dolore invece provato, sentito, percepito da Petrarca perché in quel momento si è innamorato. Nel momento di massima compassione, di massima disperazione per la morte del Salvatore, Petrarca si innamora di una semplice creatura mortale e qui verrà subito richiamata alla memoria la custodia oculorum ed è un peccato molto grave, ne parla anche Agostino nelle confessioni. Petrarca non riesce a custodire appunto i suoi occhi, a preservarli dalla luce accecante che viene irradiata dall'aura, da questa visione epifanica e viene ferito mortalmente, viene colpito, pertanto tradisce Dio perché nel momento di massima vulnerabilità del creatore, nel momento in cui la creatura dovrebbe essere attaccata e provare compassione per il dolore del proprio creatore, Petrarca prova dolore perché si innamora di una donna che di fatto non lo ricambia, che non lo ama, quindi tutta questa storia si basa su un amore non corrisposto. Il canzoniere in realtà non è solo un insieme di poesie ma è un vero e proprio romanzo in poesia, è una storia che si dipana fragmentum dopo fragmentum fino ad arrivare al 366esimo ed è davvero un iter di redenzione paragonabile in tutto e per tutto alla divina commedia di Dante. Certo non ha l'ampiezza, forse la grandezza, l'abilità straordinaria di Dante però anche Petrarca in realtà ci regala questo giovenile errore, questo sbaglio che ha commesso in gioventù, poi segue il pentimento, il ravvedimento, capisce di aver gettato del tempo inseguendo una creatura mortale e poi quindi si arriverà attraverso un percorso di redenzione al rigetto e al rifiuto di quell'amore giovanile e lo colloca nella giusta prospettiva e tenterà fino alla fine di elevarsi a Dio. Tuttavia se nel sonetto numero 2 l'esperienza viene inserita in un tempo circolare perché è il tempo del mito, quindi un tempo eterno che si potrebbe rinnovare all'infinito, nel sonetto numero 3 invece l'esperienza non solo viene vivificata e viene incarnata, materializzata, ma soprattutto collocata all'interno di un tempo lineare che è il tempo cristiano, cioè il tempo dei mortali e il tutto viene filtrato dalla memoria di Petrarca. Questo sonetto non è stato scritto subito ma è stato scritto molti anni dopo, soprattutto dopo la morte di Laura. Laura muore di peste ad Avignone nel 1348, quindi qui già siamo nel 49, nel 52, ci sono tantissime ipotesi. Comunque è stato scritto dopo la scomparsa della donna amata. In questo sonetto si parla di due grandi passioni, quella di Cristo che sacrifica se stesso per l'intera umanità e quella di Petrarca per una semplice creatura mortale, quindi qui davvero il poeta tradisce il suo fattore. E prima di iniziare vi ricordo che il sole è un disco, quindi si può paragonare ad un occhio e si oscura per ricordare a tutti le tre del pomeriggio quando Cristo morì sulla croce. Ebbene Petrarca fa oscurare Cristo, quindi viene messo da parte in secondo piano perché qui adesso emergerà l'epifania di Laura di questa creatura che invece irradia una luce ceccante, che brilla proprio di luce propria. Quindi qui abbiamo due soli naturalmente, uno molto più importante dell'altro per il poeta, è un'esperienza personale, individuale, ma che in realtà cela una dimensione universale perché riguarda ciascuno di noi. Ed è tutto un gioco di luci, di ombre, sembra quasi un quadro di un qualche pittore, adesso notatelo mentre leggiamo. E non è un caso che questo sonetto sia stato definito il sonetto della luce, appunto. Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo fattore, irai, quando fui preso e non me ne guardai che i bevostrocchi donna mi legaro. Il tema è chiaro, l'amore Petrarca non si aspetta di essere colpito, ce l'ha detto anche nel sonetto numero due, soltanto che mentre là era preparato o perlomeno pensava di esserlo, qui assolutamente non se lo aspettava. Lui abbassa le sue difese, abbassa la guardia e viene colpito all'improvviso. Era il giorno in cui i raggi del sole si sono scoloriti per la pietà del suo fattore, cioè per riguardo e soprattutto per compassione nei confronti di Dio, perché siamo appunto nel venerdì santo, quando sta per morire sulla croce. E notiamo quindi questo sole, questo occhio che si oscura proprio per mettere in luce il momento più importante, più solenne di tutta la cristianità. Non è un caso, qui Petrarca cita proprio le parole di Luca, dal Vangelo di Luca, dal capitolo 23, versetti 44-45. Quindi notate anche questa solennità biblica, perché non viene usata solo da Dante, ma anche da Petrarca. Quando io fui preso e non me ne guardai, io fui preso, fui catturato, fui preso all'amo. Qui ritornano moltissimi topoi dell'amor cortese. Io non me ne guardai, cioè non ero preparato e in quel momento i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Fui preso e legato. Qui Petrarca diventa un alter Christus, perché anche Cristo fu preso e legato quando fu arrestato nel giardino del Gezzemani. Ecco, anche lui subisce la stessa sorte, ma per un motivo completamente diverso, sacro e profano. Qui ci sono tutta una serie di contrasti, di analogie molto molto importanti. I bei vostro occhi, non è un caso che occhi lo metta proprio al centro del verso, perché sono proprio la chiave di lettura dell'intero sonetto e sono la cosa più importante, perché l'amore sappiamo bene che arriva al cuore attraverso gli occhi ed è il topo stipico della letteratura provenzale. Sono il varco per poter arrivare al cuore del poeta e folgorarlo. L'immagine della donna si imprime per sempre nel cuore del poeta. Come dicevo prima, cita proprio Agostino dalle confessioni aperuit oculos e per cursus est, graviore vulnere in anima, qua mille in corpore. Quindi ha ricevuto una ferita molto più grave, più profonda nel cuore rispetto a quella del corpo. Ecco il contrasto quindi tra il corpo di Cristo che viene martoriato e l'anima invece del poeta che viene ferita mortalmente. Quindi in realtà è più importante ed è più dolorosa e più straziante la sorte che è capitata a Petrarca rispetto a quella di Dio addirittura. Quindi qui sembra essere superiore addirittura per importanza, perché è un'esperienza che lo ha stravolto per sempre. Tempo non mi parea da far riparo contro a colpi d'amor, cioè non c'era alcun motivo di ripararsi dai colpi, quindi dagli strali dell'amore, perché Petrarca si trova in chiesa. Siamo nella Basilica di Santa Chiara ad Avignone, è il 6 aprile 1327. Attenzione perché in questo sonetto lui non dice quale sia la data, non la nomina, lo scopriremo solo più avanti, però sappiamo che il 6 aprile del 27 non fu sicuramente un venerdì santo, quindi è una scelta puramente simbolica ed è proprio lì che incontra Laura. Laura probabilmente fu una nobile, sicuramente esistita, non abbiamo motivo per ritenere che non sia esistita, anche perché Petrarca stesso commissionò delle miniature a Simone Martini, quindi lui la dipinse. Poi lo stesso Petrarca la descrive molto bene nel Secretum, perché parlando di Laura Petrarca dice ogni giorno si avvicina sempre di più alla morte e quello splendido corpo, cioè quello di Laura, stremato dalle malattie e dai frequenti parti, quindi lei ha avuto moltissimi figli, ha perso molto della salute di un tempo, quindi era davvero stremata dalle troppe gravidanze e sposata, questo è sicuro, quindi probabilmente Laura de Noves, quindi un membro della famiglia dei Noves, oppure un membro della famiglia de Sad, da cui poi arriverà quel famoso Marchese de Sad, Petrarca l'avrebbe vista per la prima volta in chiesa e anche questo è un elemento storicamente tipico, classico, perché i due sessi si possono incontrare in pochissimi luoghi per chiesa per partecipare alle funzioni religiose e certamente questo era permesso e quindi lì la vede in mezzo alla folla e si innamora di colpo ed è una cosa veramente straordinaria, però su di lei torneremo perché ne parlerà diffusamente sia nel quarto e soprattutto anche nel quinto sonetto, io me ne andai sicuro senza sospetto, quindi senza sospettare nulla, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro, ecco e nel comune dolore, cioè mentre tutti provano dolore, sono afflitti per la morte di Cristo e sono tutti là che pregano, per me invece iniziarono i guai, ecco notare quel guai che possiamo collegarlo anche al terzo canto dell'inferno di Dante dove si sentono le stride, i pianti e gli alti guai, ecco è davvero un dolore straziante, qualcosa che lo ha ferito mortalmente e se ne va senza sospetto, anche qui richiama il quinto canto dell'inferno di Dante, storia di Paolo e Francesca, certo la situazione è completamente diversa, però effettivamente anche lì, mentre Paolo e Francesca leggono di Lancillotto che cosa dicono? Soli eravamo e senza alcun sospetto, l'amore coglie nel momento meno opportuno, quando nessuno cioè se lo aspetta, trovò un mio amor del tutto disarmato, quindi amore che qui viene personificato lo trova del tutto disarmato, cioè non è assolutamente pronto, in realtà non lo era neanche nel secondo sonetto, perché Petrarca aveva tentato di rifugiarsi sull'altura, sulla roccaforte della razionalità e non a caso è posta in posizione sopraelevata perché la testa dell'uomo è in alto nella parte superiore del corpo, ma non è servito a niente e qui nemmeno è aperta la via per gli occhi al cuore che di lacrime sono fatti, uscio e varco, un altro topus tipico della letteratura cortese, della lirica trobadorica, l'amore passa attraverso gli occhi e questa è l'idea, l'amore è un sentimento interiore però per poter sbocciare deve sicuramente essere innescato da un elemento esterno, cioè dall'immagine della donna che penetra e che si stampa per sempre sul cuore del poeta, che di lacrime sono fatti uscio e varco, quell'uscio e varco non sono usati a caso, cioè Iannua e Ostium per Cristo sono quella porta e quel varco perché così vengono definiti anche nelle sacre scritture, ma per l'acqua e per il sangue perché dal suo costato dovevano uscire appunto questi elementi e quindi dimostrare a tutti che lui era morto per salvare l'umanità, mentre in Petrarca l'uscio e il varco permettono all'amore per una creatura mortale, cioè per una cosa di poco conto che sarebbe stata destinata alla tomba, in realtà lui si innamora proprio di lei e l'uscio e il varco permettono all'amore di entrare ma è un amore futile, passeggero, però al mio parer non li fu onore ferirme di saetta in quello stato a voi armata, non mostrar pur l'arco. Notate anche la litterazione del suono aspro della R perché evidenzia ancora di più fonicamente tutto il dolore, lo strazio e soprattutto la rabbia per il poeta perché mentre lui è stato totalmente distrutto e anichilito, Laura non si è nemmeno accorta della sua esistenza, forse non ha neanche mai saputo che lui era lì in mezzo alla gente e che la stesse guardando e che la stesse contemplando. Secondo me dice non gli fu onore, non gli fa onore all'amore avermi ferito con una saetta mentre mi trovavo in quello stato, mentre avrei dovuto partecipare al comune dolore, quindi al tempus lugendi dell'ecclesia perché la chiesa appunto stava celebrando questo momento liturgico solenne e fondamentale per il cristianessimo e a voi dice armata, voi che invece eravate tutta equipaggiata e pronta, non mostrar pur l'arco, nemmeno l'arco, quindi non è stata minimamente scalfita dalle frecce e dagli strali di amore. Petrarca si rifà agli amores di Ovidio. 1, 2, 22. Necti bilaus armis victus in ermis ero, ne sarà per te motivo di lode se sarò stato vinto con le armi mentre ero indifeso. Quindi davvero qui abbiamo moltissime citazioni dalla Bibbia, dagli amores di Ovidio, dalla divina commedia di Dante che Petrarca conosceva, quindi siamo davvero calati nel tempo della linearità, quindi del tempo cristiano, è un momento solenne, non ci viene ancora detto nulla sull'epoca, sul periodo storico reale, di una cosa siamo certi, considerando il primo e anche il secondo sonetto, ora siamo nel terzo, tutta questa storia è filtrata dal ricordo. Laura morirà di peste nel 1348 e sarà soltanto dopo la sua morte che Petrarca riceverà questa scossa, questo monito anche da parte di Dio, la morte lo porrà di fronte ad una scelta, capirà il suo errore, quel giovenile errore e quindi deciderà di redimersi, di iniziare quel itera deum, quindi di pentimento, di allontanamento dai beni materiali, soprattutto dall'amore e dalla fama e poi si consacrerà alla fine proprio alla Beata Vergine Maria nell'ultimo componimento nel 366. Il suo scopo è quindi quello di riabilitarsi, però non può fare a meno di raccontare tutto quello che è successo e qui siamo calati definitivamente nella materialità, nella temporaneità e l'aura non esiste più, è stato scritto dopo, però ricorda ancora quel momento, perché il momento in cui uno si innamora rimane indelebilmente scolpito, impresso e marchiato quasi a fuoco sul suo cuore. Alla prossima!